Vorrei esprimere a nome mio personale e di tutto il Senato il cordoglio per la morte di Eugenio Scalfari, uno dei più grandi giornalisti del XX secolo, che ha fondato il quotidiano La Repubblica e il settimanale L'Espresso, oltre ad essere stato rappresentante e anche importante della politica italiana nella Camera dei Deputati. Vorrei dedicare a lui un minuto di silenzio. Grazie. Grazie, grazie a tutti.